Il mio lavoro non aiuta. Go, go, go. Ragazze, rimaniamo concentrate, eh? Perché ci aspetta una trasferta molto impegnativa. E quindi dobbiamo migliorare in ricezione. E una volta ricevuta la palla, ripartire subito con lo schema. E poi lo dico una volta e non ve lo dico più perché mi sono veramente stufato. Dovete darla via. Subito. Tranquillo mister, noi la diamo via spesso. Ramona, Ramona, è possibile che tu abbia in mente solo una cosa nella vita? Non te l'hanno insegnato a Cuba che c'è altro nella vita oltre al sesso, brava. Molto brava anche tu. Grazie. E comunque dobbiamo migliorare anche l'attacco in veloce. Diamo troppo tempo alle altre di piazzare il muro. Ecco, ha ragione Eva. Perché? Perché usiamo sempre lo stesso schema e diventiamo prevedibili. Bello lo schema, bello, però ogni tanto anche una bella schiacciata. Classica. E poi via. Penetriamo. La difesa. Avversaria. Però scusate, scusate, scusate. E vabbè, dai. Ciao. 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 Grazie a tutti.